È il giorno in cui Arezzo piange Mauro Pasqualini, ex calciatore amaranto legato all'Arezzo e ad Arezzo. E' proprio in questo giorno in cui appunto il calcio aretino è il lutto, l'Arezzo però venendo al calcio giocato torna in campo qui al Giusiconti a Rigutino in preparazione in vista della partita di domenica contro l'Olbi. Ad attendere infatti i ragazzi di Mister Indiani la trasferta a Sarda con una partita da non sottovalutare. In casa della squadra appunto Sarda una novità per quanto riguarda la figura dell'allenatore, Leandro Greco dopo sei sconfitte consecutive è stato esonerato al suo posto Marco Gaburro. Per Indiani ovviamente questa è una sfida che arriva dopo il passo falso con il Pescara, massima concentrazione anche quella che si è vista appunto nell'allenamento di questo pomeriggio. Sottolineiamo anche l'allenamento a parte per il difensore Lorenzo Coccia, lo ricorderete lo scorso novembre, per lui un grave infortunio ad Ulna e Radio. Questa quindi la situazione con Marco Chiosa anche in campo in questo allenamento pomeridiano. Sicuramente l'assenza del difensore unita a quella di Gucci in attacco si erano fatte particolarmente sentire durante la partita di Pescara. Tornando alla gara di domenica dicevamo una partita da non sottovalutare anche perché molto spesso il cambio di allenatore sulle panchine produce uno sprint, produce un qualcosa in più e dunque massima attenzione per la squadra di Indiani che comunque con la solita concentrazione sta preparando questa sfida.